cari amici di mille un'avventura in questo video parleremo di linguaggi di programmazione che addirittura risalgono alla seconda metà degli anni 70 il basic come abbiamo visto in un altro video che troverete linkato qui sotto in descrizione era già da tanti anni il linguaggio principe diciamo di queste applicazioni su computer in modo che fossero accessibili a più persone possibili un linguaggio assolutamente semplice da padroneggiare rispetto ad altri linguaggi più a basso livello però cosa è successo a un certo punto beh è comparso il tiny basic che non è il linguaggio di cui parleremo dopo ma comunque è su quella su quella traccia lì perché il linguaggio di cui parleremo dopo è il vtl il veri tiny language seconda versione che è un linguaggio vedrete assolutamente essenziale e il tiny basic però diciamo del 75 ha dato un po il via era un primo basic che era stato creato da dennis ellison dennis ellison lo vedete qui su wikipedia vi spiegano un po chi 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 è chi cosa ha fatto era praticamente uno dei membri fondatori della people's computer company la compagnia di computer del popolo quindi qualcosa assolutamente di rivoluzionario perché voleva rompere in qualche modo la che so la la diciamo l'egemonia di colossi come l'ibm e altri e altri colossi del genere che con i mini computer spadroneggiavano diciamo così no a livello ad alto livello mentre si voleva con la people's computer company partire dal basso con una newsletter un periodico e praticamente i computer dovevano diventare qualcosa a cui la gente poteva accedere senza troppi problemi e cos'è successo dennis ellison è capitato che abbia appunto realizzato questa versione di basic detto tiny basic così tiny così piccolo che poteva stare in 4 kilobyte di memoria davvero pochissimo ma era in fondo la memoria a disposizione dei computer dell'epoca e perché l'ha creata in risposta a una lettera aperta pubblicata da bill gates eccolo qui bill gates che il grande fratello che c'è dietro di noi che ormai si è ritirato dal dalla microsoft e si occupa adesso soprattutto essenzialmente di con la bill e melinda gates gates foundation si occupa di beneficenza quindi tutti i soldi che si è fatto adesso li gestisce anche in beneficenza ovviamente quindi si è rivalutato come figura in questo modo però che cosa era successo all'epoca se riesco a ritrovare la pagina ecco bill gates aveva pubblicato una lettera aperta dove si lamentava di tutti gli utenti che piratavano l'altair basic come sapete il basic che ha dato vita alla microsoft gli inizi proprio della microsoft sono basati sul basic che lui e i suoi collaboratori distribuivano soprattutto all'inizio sull'altair queste macchine che i primi personal computer che cominciavano a diffondersi ma che avevano bisogno di un linguaggio di programmazione e cosa faceva la microsoft vendeva questo altair basic per 150 dollari dell'epoca vi potete immaginare nel 75 e anni precedenti cosa faceva la gente che aveva l'altair in casa che l'aveva già acquistato a caro prezzo tra virgolette perché era abbastanza economico per essere uno dei primi personal computer rispetto ai mini computer dell'ibm per esempio visto che costava magari qualcuno se lo copiava e quindi bill gates si lamentava per la gente che piratava il suo altair basic che cosa ha fatto dennis ellison ha creato un altro basic che doveva essere completamente gratuito e che era molto piccolo come dimensioni per poter essere eseguito dai primi micro computer quindi un basic non open source non ne ho idea ma comunque era gratuito la gente lo poteva utilizzare tutto nella nella filosofia della people's computer company i computer dovevano essere accessibili al maggior numero di persone possibili e così la programmazione e quindi l'altair basic era appunto ne hanno già accennato bill gates paul allen qui c'è tutta una un'epopea no di questo di queste cose che ormai sono entrate nella storia e arriviamo a quello di cui volevo parlarvi del veri tini language e questo a quanto pare ci dicono è un dialetto del tini basic sembra ancora più essenziale più che dialetto del tini basic era stato realizzato da gary shannon e chi altro adesso non trovo più il secondo mccoy qualcosa comunque era stato realizzato questo gary shannon è stato uno dei primi impiegati della apple computer quindi microsoft apple l'epopea dei massimi esponenti contro l'ibm ecco praticamente sono sono questi e diciamo che shannon aveva realizzato questo come dialetto del tini basic un linguaggio chiamato vtl2 è veri tini language stava addirittura in tre chip rom da 256 byte ciascuno praticamente meno di un chilo byte quindi 3 per 256 fa 768 in 768 byte ci stava un basic incredibile questa cosa poi shannon vediamo un attimo gary shannon dov'è che lo troviamo qui è stato poi è stato assunto nel 78 all'apple computer come impiegato numero 38 immaginate la apple adesso ha migliaia decine di migliaia di impiegati e gary shannon era l'impiegato numero 38 e l'impiegato numero 0 era steve jobs era era così in pratica steve wozniak è il numero 1 allora che cosa si è inventato gary shannon insieme a mccoy di cui mi sfugge adesso il nome si è inventato per l'altair sempre vtl2 c'era stato anche vtl1 ecco questo vtl2 per apple 2 lo possiamo trovare su github qui da qualche parte si può ancora provare era per il processore 6502 e quindi niente lo potete trovare se lo cercate su github ce ne sono varie versioni e lo trovate anche su rosetta code perché alcuni dei programmi su rosetta code questo sito che è un elenco di tanti possibili algoritmi per realizzare tantissime cose che si possono realizzare con i computer beh trovate anche il vtl2 un certo numero di algoritmi e qui finalmente troviamo gary shannon e frank mccoy gary shannon l'ho trovato in quella pagina che avete visto prima frank mccoy non l'ho trovato non ci sono su wikipedia e quindi non saprei bene come come localizzarli insomma però nel 1976 per l'altair avevano realizzato questo linguaggio talmente piccolo che poteva stare su tre chip rom da 256 byte ciascuno come dicevamo prima che erano c'era già lo spazio per inserirli all'interno della macchina erano già era già previsto un'aggiunta di quel tipo senza stravolgere tutto quanto ma andiamo a vedere a tra l'altro nella commodore languages list che hanno aggiornato dan friend rich la giornata addirittura l'11 giugno del 24 e noi siamo al 12 giugno quindi una pagina di linguaggi per i computer commodore che è stata aggiornata ieri pensate e si trovano qui tutti i possibili linguaggi e il vtl 2 era pensato per questa piattaforma kim 1 kim 1 vuol dire una prima scheda madre con un processore 6502 della mosse technology che era stato appunto lanciato nel 76 e che aveva appunto la possibilità ecco di di aggiungere questi moduli pochissima memoria aggiuntiva ma questi linguaggi così stringati potevano programmare questo queste schede particolari ma andiamo a vedere finalmente vtl 2 che cos'era un linguaggio molto striminzito tini e lo traduciamo come striminzito questo è il manuale per l'altair 680 risale ovviamente al 76 anche questo sembra un po' riscritto perché questo è un pdf quindi non so bene come l'abbiano confezionato ma andiamo a scoprire come mai questo linguaggio era così piccolo perché esistono tanti basic quello del commodore 64 quelli ancora prima e nel commodore 64 e ci sono 8 kilobyte di memoria dedicati al basic qui addirittura 768 byte e allora qui ci dicono che si possono usare tutte queste operazioni quindi vedete la somma la sottrazione moltiplicazione i test per l'uguaglianza per maggiore minore quindi queste operazioni aritmetiche assolutamente necessarie ci sono tutte ci sono anche delle variabili che sono le lettere maiuscole ma possono anche essere altri caratteri quindi una singola lettera per ogni possono essere anche questi caratteri speciali che vedete qui sopra però diciamo queste operazioni sono nelle espressioni riservate per fare questi calcoli mentre le variabili dicevamo una lettera maiuscola singola ora perché era così stringato perché lo stesso simbolo poteva avere diversi effetti a seconda della posizione per esempio ci spiegano qui andiamo di ingrandire ancora un po' che a uguale b uguale c che cosa significa significa che b uguale c viene testato per l'uguaglianza e se b è uguale a c questa operazione restituisce 1 altrimenti restituisce 0 il risultato viene memorizzato nella variabile a quindi una cosa davvero molto semplice lo stesso simbolo lo usiamo per fare due cose diverse se all'inizio della riga dopo una variabile assegna il valore alla variabile se invece lo troviamo dopo è il simbolo di comparazione che ci dà 0 o 1 a seconda che la comparazione abbia dato esito falso 0 oppure vero 1 un'altra cosa è che queste variabili possono contenere solo numeri interi quindi non ci sono i numeri in virgola mobile in questo basic come in effetti non c'erano nei programmi dell'epoca nei linguaggi macchina dell'epoca istruzioni dedicate che facessero la moltiplicazione bisognava eseguire vari tipi di operazioni poi altri esempi di espressioni ecco qui le operazioni moltiplicazione somma non seguivano le normali regole dell'algebra ma seguivano da sinistra a destra venivano eseguite quindi se voi vedete più b per x dove l'asterisco è come al solito la moltiplicazione prima viene eseguito più b con il valore calcolato in precedenza e poi il risultato viene moltiplicato per x quindi se uno non vuole fare confusione deve sempre usare le parentesi per aver ben chiaro che cosa sta facendo l'espressione perché altrimenti usando le normali regole dell'algebra ci si potrebbe confondere quindi abbiamo visto l'uguale che significa t a abbiamo visto qui ovviamente a è una uguaglianza che significa assegnamento alla variabile y quindi non è una comparazione in questo caso ora ci sono poi delle variabili di sistema per questo è così compatto perché certe cose che normalmente in un basic si farebbero con goto o altre in altre istruzioni apposite if then goto e così via qui invece si fanno utilizzando le variabili di sistema per esempio vedete questa linea 100 a uguale cancelletto cosa fa il cancelletto rappresenta il numero di linea della riga che viene eseguita quindi ci vogliono anche in questo basic come in quello del commodore 64 dei numeri di linea e il cancelletto assume il valore 100 in questo caso è come scrivere 100 a uguale 100 quindi nella variabile a se scrivo così viene memorizzato 100 ovviamente inutile perché potrei scrivere benissimo così però che cosa succede una volta che la linea è stata completata il cancelletto assume il valore della linea più 1 quindi alla fine di questa linea il cancelletto valeva 100 e ad a viene assegnato 100 ma finita la linea diventa il cancelletto 101 e quindi questo può essere usato adesso vedremo come e poi mi fermo magari mi dite voi se vi interessa andare a vedere ancora più in dettaglio altre caratteristiche del linguaggio qui sotto nei commenti ora come si fa invece il goto guardate questa istruzione qua come ci spiegano nel manuale vtl2 se io scrivo cancelletto uguale 300 assegno al cancelletto il valore 300 e questo significa che una volta finita questa riga qui l'esecuzione continua dalla riga 300 come se avessi scritto goto 300 vedete qui che 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 scorciatoie che si sono inventati per rendere i programmi molto compatti e allo stesso tempo l'interprete per l'interprete diventa facile di capire cosa deve fare quando trova una cosa così capisce che deve mettere il deve spostarsi alla riga 300 ecco altri esempi interessanti come si fa a fare if then cioè controllare una condizione e saltare una riga se quella condizione è vera ma non fare nulla se la condizione è falsa ebbene se io scrivessi cancelletto uguale 0 questo viene ignorato se la variabile cancelletto viene impostata a 0 per qualche ragione beh quella cosa lì viene ignorata non si sposta l'esecuzione alla riga 0 la riga 0 non è prevista e questo può essere utilizzato per realizzare gli if if then se una condizione è vera fai questo se non è vera non farlo e continua allora guardiamo queste 4 righe qua come ci spiegano nel manuale allora innanzitutto la riga 10 x viene posto uguale a 1 e fin qui potrebbe essere benissimo una riga di basic normale adesso c'è questa riga 20 qui trovate anche il commento di fianco che vi spiega cosa fa questa riga qui la riga 20 vedete le parentesi la prima cosa che viene fatta è x uguale 25 qui l'uguale significa confronto il valore contenuto nella x col valore 25 se sono uguali il risultato è 1 se non sono uguali il risultato è 0 questo 0 viene moltiplicato per 50 e quindi viene 0 cancelletto uguale 0 abbiamo detto che non fa nulla vuol dire che l'esecuzione continua e la x diventa x più 1 cioè era 1 la x diventa 2 e poi nella riga 40 trovo cancelletto 20 vuol dire che torno alla riga 20 vuol dire che torno alla riga 20 a questo punto x vale 2 2 non è uguale a 25 la comparazione da 0 di nuovo cancelletto uguale 0 non fa nulla e alla fine x uguale x più 1 fa diventare la x uguale a 2 la fa diventare 3 e di nuovo si torna alla riga 20 a un certo punto continuando a incrementare non è che abbia molto senso è questo programma però continuando a incrementare a un certo punto la x diventa uguale a 25 x uguale 25 perciò davvero cioè 1 1 per 50 fa 50 e quindi cancelletto uguale 50 ci fa saltare alla riga 50 abbiamo eseguito un ciclo con un if qua che solo se x è uguale a 25 salta 50 tutto questo usando solo i simboli che abbiamo visto finora l'uguale come comparazione la moltiplicazione come operazione aritmetica e l'uguale come assegnamento tutto qui e abbiamo realizzato if then abbiamo realizzato goto abbiamo le operazioni normali un ciclo realizzato in questo formato così stringato ci sarebbero tante altre cose da raccontare per esempio ecco se tanto per far capire la filosofia che era dietro a questi linguaggi così che avevano bisogno di occupare pochissima memoria beh guardate la riga 20 ci sono delle parentesi che in realtà si possono evitare perché cancelletto uguale aspetta che venga calcolato ciò che segue x uguale 25 viene eseguito per primo il per 50 successivamente e di conseguenza si riesce a risparmiare due caratteri nel programma quindi incredibile un'altra caratteristica di cui vi parlo e poi smetto ma ce ne sarebbero altri il punto esclamativo che cosa fa il punto esclamativo questo nuovo carattere che hanno scelto per fare qualcosa di particolare ebbene il punto esclamativo quando al cancelletto viene assegnato un valore e quindi in pratica avete fatto un goto da qualche parte il cancelletto il punto esclamativo contiene il valore che c'era prima nel cancelletto più uno quindi prende il valore che c'era nel cancelletto e gli somma uno ma lo memorizza nel punto esclamativo per esempio se qui cancelletto dov'è ecco qui cancelletto uguale 20 no questa riga 40 fa saltare alla riga 20 come un goto 20 però nel punto esclamativo verrebbe memorizzato 41 che è appunto l'ultima riga che il cancelletto avrebbe memorizzato se non fosse stato modificato il suo valore però sommato a 1 allora cosa si potrebbe fare guardate questa ultima cosa poi ci fermiamo perché non so quanto appunto posso interessare e allora qui c'è 10x uguale 1 e va bene poi 20 cancelletto uguale 100 che cosa succede saltiamo alla riga 100 la riga 100 in x mette x per x cioè c'era il valore 1 1 per 1 1 quindi in x troviamo ancora 1 però nella riga 110 ah ecco non l'ho detto che cosa c'è in cancelletto qui c'era memorizzato 100 ma nel punto esclamativo è stato memorizzato 20 più 1 allora cosa succede nella riga 110 che segue l'operazione che abbiamo fatto viene messo nel cancelletto il valore 21 ma la riga 21 non esiste e quello che fa questo interprete è andare a eseguire la riga subito successiva al 21 quindi io ho preso il valore 1 l'ho elevato al quadrato diciamo l'ho moltiplicato per se stesso l'ho memorizzato in x anche qui programma assolutamente inutile ma per far capire la riga 110 mi fa tornare indietro alla riga successiva come fosse stato un go sub del normale go sub del basic in cui per realizzare un go sub io devo memorizzare il valore della riga che ha chiamato il go sub e una volta che faccio un return torno a eseguire la programmazione da quella riga in poi vedete senza go sub senza go to senza niente abbiamo usato solo le normali operazioni l'assegnazione il cancelletto e il punto esclamativo cose che con i linguaggi odierni non ci sogniamo neanche di fare più sono verbosi meglio è perché meglio si capisce il programma a livello umano insomma è più facile capire cosa fa il programma tanto c'è il compilatore che rende tutto più veloce più sintetico e lo compila in linguaggio macchina ebbene in questi linguaggi i programmi dovevano essere piccolissimi perché c'era pochissima memoria RAM a disposizione la ROM era altrettanto piccola e quindi un interprete che stava in 768 byte probabilmente anche meno ma i blocchi della ROM erano 256 byte ciascuno quindi almeno 3 ce ne volevano bene erano linguaggi che effettivamente potevano avere un senso e all'epoca di certo andavano per la maggiore ci sarebbero tante altre cose di cui parlare a cosa serve il punto interrogativo a cosa servono tante altre cose ma ne parleremo solo se qualcuno dirà interessante mi vado a vedere in manuale e me lo guardo da solo oppure mi dice interessante perché non ci spieghi anche tutto il resto e allora faremo un altro video magari se qualcuno dice che potrebbe essere una cosa interessante da fare potremmo fare anche un interprete in javascript il linguaggio più verboso del mondo di questa roba qui di questa vtl di questo veri tini language linguaggio molto striminzito bene spero che queste cose comunque vi interessino e a me interessano tantissimo le sto scoprendo piano piano quando qualcuno me le accenna quando vedo delle cose che saltano fuori poi ovviamente non è che sia molto addentro queste cose quindi può darsi che certi passaggi storici li abbia un po' deformati li abbia un po' semplificati però ho orecchiato un po' queste cose qui e magari vi spingono a approfondire maggiormente questi argomenti davvero davvero interessanti a me non resta che ringraziarvi per l'attenzione ci si rivede in un prossimo video in una prossima diretta ciao a tutti mille e una avventura ci porta nel passato con storie di byte e pixel che non abbiamo autenticato senza dubbio ciò che amo mille e una avventura il nostro mondo è al che è un po' semplice